La 37esima edizione del meeting di Atletica Città di Padova in programma tra fine agosto e i primi di settembre potrebbe slittare di un anno. I lavori in Piazza Azzurri d'Italia, dove si trova allo stadio Colbacchini, rendono difficilmente accessibile la struttura per la grande quantità di atleti e pubblico che l'evento richiama. L'ufficialità della decisione dovrebbe arrivare in settimana dal Comune di Padova, che si sta interfacciando con Assindustria Sport e che organizza da sempre il meeting di Atletica.